La voce degli azionisti, Sodalizio che fa capo a Franco Corti e che rappresenta un centinaio di piccoli azionisti di Banca Carige, contraria al riassetto sostenuto dal Fondo Interbancario, ha presentato un esposto alla Consob, l'organo di controllo delle società quotate in borsa, relativo all'Assemblea dei Soci di Carige, che venerdì a Genova sarà chiamata ad approvare l'aumento di capitale della Banca Ligure da 700 milioni di euro. Nell'esposto di Corti viene segnalata la mancanza di trasparenza circa la finalità ed effetti dell'aumento proposto, nonché sulle conseguenze sull'azionariato. Contestati anche l'esclusione del diritto di opzione e i metodi adottati per definire il prezzo della ricapitalizzazione. Secondo Corti, infatti, i commissari hanno determinato tale prezzo esclusivamente in base a un ipotetico valore di mercato, determinato per relazionamento sulla scorta di un parere esterno non reso pubblico.